Per tre anni sulla distanza del miglio, sono tredici concorrenti già agli ordini dello starter. In prima fila Eltrince, Endababa, Eldrl, Eneide, Electraizeta, Explosive Nobel, Eagle Weisel ed Explosive Mind LF. Seconda fila per Elitz, Edipo Indal, Elettrogal, Eros di Meletro e Ettore Dal. Allineamento completato, arretrato, il solo Explosive Mind LF. Eneide è la più sollecita come prevedibile, a largo Explosive Nobel più sollecito del solito, poi Eagle Weisel. Eldrl e Eldrl in cerca di posizione. 200 metri iniziali in 14,4, Explosive Nobel impegnato severamente da Eagle Weisel. I due apparegliati all'imbocco della prima piegata, primo quarto ultimato in 29 secchi, insiste Eagle Weisel e sfila a condurre anche sulla condiscendenza di Explosive Nobel. Si viaggia sul piede dell'1,12 in questa prima parte di gara, muove immediatamente Electraizeta, Explosive Nobel agisce a mezza ruota. Sull'avversaria di dentro guadagna una posizione Eneide, poi Eldrl richiesta. Metà gara in 1,1 scarsi, è finita a tabellone il numero 9, Elitz, Explosive Nobel attacca a fondo Eagle Weisel. I due che lottavano all'inizio sono apparigliati anche al chilometro, percorsi in 1,15,6 con 14,7 di ultima frazione. Richiesta lungo i paletti Eneide. A largo si fa notare Ros di Meletro, tre quarti di miglio in 1,30. Continua la lotta tra Explosive Nobel a largo e Eagle Weisel all'interno, Electraizeta segue i due. Ingresso in retta d'arrivo, Explosive Nobel passa definitivamente, si distende e va a vincere, mentre la lotta per le piazze vede un ottimo Eagle Weisel respingere Electraizeta sin sul traguardo. Per il quarto Eneide, e questo l'arrivo probabile ed ufficioso, continua la striscia positiva di Explosive Nobel, il figlio di Napoleon Barre e Palla de B, che dopo i primi due successi in carriera aveva perso l'imbattibilità all'ultima uscita. Torna a vincere in questa circostanza in uno svolgimento che poi si è rivelato più complicato di quanto potesse apparire. Media di 1,14,9 per l'allievo di Vincenzo Palumba e Domenico Minopoli, interpretato da Antonio Simioli, per i colori della signora Rosa Arborino. Il 7 al secondo posto, Eagle Weisel.